Parliamo degli infortuni sul lavoro perché tra gennaio e luglio di quest'anno sono aumentate le denunce di infortuni sul lavoro, in parte per il Covid e in parte anche per la crescita degli infortuni tradizionali. Questi sono i dati che sono stati diffusi questa mattina dall'Inail. C'è però un calo degli incidenti mortali anche se nei primi sette mesi dell'anno sono stati più di 560, l'ultimo proprio oggi in Lombardia. L'ultimo episodio è di poche ore fa. Un operaio di 32 anni precipitato in un cantiere ad Averara in provincia di Bergamo è ricoverato in codice rosso. In Italia si verificano in media tre incidenti mortali al giorno, un dato che impressiona anche se in diminuzione rispetto agli anni scorsi, cheppure scontavano un rallentamento dell'attività imposto dalla pandemia in gran parte dei settori. Crescono gli infortuni. Il confronto basato sui dati Inail segna un incremento del 41% nel primo semestre 2022 rispetto a un anno fa. Nel 2021 le denunce erano state poco più di 300.000. Nei primi sei mesi dell'anno sono arrivate a 440.000. Viceversa cala il numero delle vittime anche se rimane elevato. Da gennaio a luglio sono 569, 16% in meno rispetto al 2021. Ma se si paragona il dato al periodo prepandemia, primo semestre 2019, la variazione è meno marcata. Quest'anno si registrano 30 morti in meno sul posto di lavoro. L'aumento degli infortuni riguarda quasi tutti i settori, ma l'incremento è più marcato nella sanità e assistenza sociale, dove si registra un più 143%, nel trasporto e magazzinaggio 137%, nei servizi di alloggio e ristorazione più 85%. Su base regionale aumento più consistente al sud, anche se sono Campania, Puglia e Abruzzo, a segnare un calo più vistoso negli infortuni mortali. Le regioni dove c'è stata la crescita maggiore invece sono Toscana, Veneto e Sardegna, tutte con 7 casi in più rispetto al 2021. Gli infortuni sono in aumento in ogni fascia di età, anche se si concentrano soprattutto fra i 40 e i 59 anni e riguardano tanto gli uomini quanto le lavoratrici italiani e stranieri. Un quadro drammatico per il quale il Governo ha assunto contromisure. Ad aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che introduce programmi straordinari di prevenzione. Il Ministro Orlando ha annunciato l'assunzione di mille ispettori del lavoro, con l'obiettivo di raddoppiare e in alcuni settori anche triplicare i controlli.